prego si accomodi bene può intanto conversare col principe e la contessa non si preoccupi non si preoccupi guardi un attimo solo e un bel saltello e voilà sulla sella tutti i posti sono apparecchiati come sempre contessa la prego si accomodi un po' cera con un pepore di indizzi a mio discorso prego si faccia l'om marcia non va a mozzare saluta l'ai Oh! Direi che puoi servire la zuppa? Zuppa, una pezza, come sempre, stessa procedura, contessa. Sì, caro mio gente, perché i miei compagni amici saranno affamati e molto curiosi di conoscere e affaggiare la zuppa. Gente, quello che ho a mano è che ho rispetto. Contessa, sei qualunque con i nostri invitati? E' sta dolce, Conte. Andegna, hai una nuova tenda e... Bene, adesso puoi servire il pesce. Contessa, lo pesco subito. Contessa, lo mangieremo servito con l'ottimo vino bianco. Vino bianco, Contessa. Davide! Ho preso! Ma il bonissimo è! Noi siamo un puncino, ma un puncino che crea tutto il mondo, è creato altro. Non lo vuoi apprendere, mi pensi a perdere il po' è che mi piace questa sera. Guarda, 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 perché... Vento! Questo capiglione fa schifo, salta il pranzino. Ho deciso che se trovo un principe a loro, c'è il servizio che non vieni qua, se trovo un principe a loro, mi posgo. Ecco qua, il porto. Contessa, il porto si porta da solo. Credo proprio che mi ritirerò. Contessa, la metterò nella piazza a 90 gradi perché è la più piccola che con te per l'età. Vado al letto? Vado al letto? Si cerca dell'aiuto ad alzarci, contessa. Si alzi che l'aiuto a sedarci. Si seda che l'aiuto ad alzarci. Si alzi che l'aiuto ad alzarci. A santo non faste proprio paletto! La milione degli ultimi cent'anni con te! Questa è la una... No. Grazie.